bentornati sul figaro lab terzo video dedicato ai nostri amplificatori per chitarra inizio subito col dirvi che parleremo delle valvole finali e che i prossimi video saranno fondamentalmente due di cui il prossimo dedicato a trasformatori di uscita e agli speaker e l'ultimo in cui faremo una sorta di sintesi di quello che ci siamo detti fino ad ora tireremo un po di conclusioni ecco prima di partire con il contenuto vero e proprio di questo video vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto attivate la campanella per le notifiche a fianco al tasto di iscrizione così da poter rimanere aggiornati su tutti i prossimi video del canale e soprattutto mettete un like al video se vi è piaciuto se avete dubbi o altro potrete commentare al di sotto riceverete tutti quanti una risposta anche per le valvole finali purtroppo mi dispiace dirlo ma il mondo si divide in due grosse fazioni ovvero le valvole finali contano tantissimo sul suono complessivo dell'amplificatore le valvole finali non contribuiscono in modo essenziale a questo suono ecco sono in realtà due mezze verità entrambe ovvero andremo a vedere perché queste non sono esattamente due verità da prendere al 100% ma come ci sia un fondo di verità in entrambe le due affermazioni dobbiamo restringere naturalmente il campo ai soli amplificatori per chitarra o per basso non andiamo ad estendere queste caratteristiche ad altre tipologie circuitali infatti nel precedente video ho pubblicato una tabella sulle risposte in frequenza quindi sulla banda passante delle varie tipologie di preamplificatrici che nel partendo dalla 12 x 7 scendendo per guadagni insomma fino alla y7 fino alla u7 ecco avrei dovuto probabilmente specificare che quella tabella era relativa a una simulazione circuitale ben precisa ovvero lo stadio d'ingresso tipico di un amplificatore per chitarra infatti quella tabella estrapolata da quel contesto sicuramente poteva trarre in inganno qualcuno che volesse considerare quei valori come universali difatti quelle stesse valvole in circuiti diversi avranno un comportamento diverso detto questo entriamo nel vivo ecco alcuni si aspettano cambiamenti enormi dal cambio delle finali in alcuni casi questi cambiamenti ci sono in altri no vedremo perché principalmente vi dico dove è possibile avvertire maggiormente questa tipologia di differenze ovvero andando a cambiare magari marchio di finale andremo a cambiare una ad esempio una serie 6 gc della softec con una tung solo con una jj dove potremmo avvertire maggiormente questo tipo di differenze forse un esempio migliore proprio con la 6 v6 più che con la 6 l 6 gc per l'appunto in piccoli amplificatori single ended per chitarra penso a un amplificatore come il fender chump oppure come il vox ac4 il lion art tutti quelli che sono degli amplificatori basati fondamentalmente su una sola finale questo per un semplice motivo viene meno quello che è il contributo del trasformatore uscita di un push pull e anche perché la valvola lavora in delle condizioni di classe a vedremo che in questi amplificatori sicuramente la distorsione che è considerata accettabile non è quella che sarebbe considerata accettabile in un classe a da alta fedeltà ma in nel mondo della chitarra una certa distorsione non solo è tollerata ma addirittura risulta gradevole le classe a queste differenze le notiamo principalmente per questo motivo ovvero l'intero segnale del nostro preamplificatore viene fornito ad una sola valvola quindi dovrà essere tale da rientrare in quella che è la forbice di bias con cui questa valvola è polarizzata quindi la valvola amplifica la valvola finale amplifica per intero la sinusoide che le viene fornita e perché questa regione di funzionamento in particolar modo enfatizza una risposta armonica un contenuto armonico diverso che quello di armoniche pari vi è assente oltretutto la distorsione di crossover che invece è una minaccia che troveremo nelle classe a b nei push pull in particolar modo detto questo sicuramente è questo la tipologia di amplificatori dove voi noterete differenze più grandi e lo noterete in particolar modo perché sicuramente chi ha un 5 watt può consentirsi il lusso di alzare il volume fino a quello che è lo sweet spot dell'amplificatore in questione e quindi di farlo lavorare ragionevolmente in una regione di funzionamento tale per cui preamplificatrici finale trasformatore e speaker possono dare tutte il giusto contributo al suono finale immediatamente dopo ci sono gli amplificatori che siano sprovvisti del master volume amplificatori sprovvisti del master volume dovendo fare però delle distinzioni diventa evidente l'apporto delle finali in quegli amplificatori senza master volume che però siano pilotati sempre in questa regione tra virgolette di sweet spot ovvero ad un volume adeguato a fare entrare in funzione le valvole finali quindi a mettere leggermente in crisi a saturare leggermente queste queste valvole finali perché lì che si avvertono le maggiori differenze tra un brand rispetto a un altro naturalmente risulterà molto più facile far saturare un amplificatore magari basato sulle 6v6 e sulle l84 per i valori tipici di bias infatti saranno nettamente più bassi rispetto ad altre valvole utilizzate solitamente nel mondo degli amplificatori per chitarra avendo una forbice di bias quindi di segnale che possono accettare più basse tenderanno ad essere più sensibili al segnale di pilotaggio questo renderà alcune differenze molto più evidenti mentre sempre rimanendo nel mondo dei non master volume se già facciamo un passaggio dalla 6v6 o dalle l84 alle 6l6gc alle l34 alla kt88 alla kt66 cominceremo ad avere una forbice di bias tale per cui probabilmente pilotare le finali in una regione dove cominciano a dare un contributo essenziale al timbro finale dell'amplificatore significa dover suonare a volumi molto sostenuti quindi sicuramente queste differenze le sentirà chi ha modo di utilizzare questi amplificatori al loro migliore livello di funzionamento non valrebbe invece per chi è costretto a tenere il volume basso avendo acquistato un amplificatore dotato di un volume enorme che però non non è utilizzabile nel contesto in cui sta suonando dove meno evidente ancora è sicuramente in tutti quegli amplificatori che proprio per sopperire a problemi di volume e anche per dare la possibilità di premere il pre amplificatore in una regione interessante come come overdrive utilizzano ecco questa soluzione del master volume in congiunzione a un volume iniziale o un gain che dir si voglia ovvero spostando il peso della saturazione dell'amplificatore del suono lead e crunch dell'amplificatore sulla sezione pre amplificatrice in questo caso il ruolo delle finali verrà come dire mortificato man mano che tendremo basso il nostro master al di sotto di un certo volume di master non saremo in grado di pilotare le nostre finali in una regione in cui le differenze tra un brand e l'altro siano apprezzabili allo stesso modo il master ha un contributo sul suono finale in base alla posizione in cui è collocato un master pre fase inverter un master post fase inverter coinvolgono in maniera diversa la stessa fase inverter che è una valvola che ha un ruolo molto importante in un push pull la stessa fase inverter aggiunge qualcosa al suono se noi la andiamo a saturare chiaramente sarà più facile saturarla se il master volume è collocato dopo la fase inverter è un po' più difficile se è collocato prima anche qui molto dipende dai volumi a cui fate suonare il vostro amplificatore se chiaramente utilizzate un 50 watt al 10 per cento al 15 per cento del suo potenziale in volume probabilmente queste differenze farete molto molta molta fatica ad apprezzarle tutto questo per dire cosa per dire che il più delle volte si cerca la valvola migliore la valvola migliore è un po' una figura mitologica nel senso che si fa fatica migliore rispetto a cosa va collocata sempre in un contesto innanzitutto abbiamo visto che è importante una scelta adeguata dell'amplificatore avere un amplificatore con una riserva di volume enorme e farlo lavorare molto al di sotto delle sue potenzialità sicuramente non tira fuori quelle caratteristiche tali per cui il finale dà un contributo molto importante alla resa timbrica finale del nostro suono per cui su questo in questa situazione qui anche due possessori del medesimo amplificatore potrebbero alcuni notare grande beneficio dal cambio da un brand all'altro e nessun beneficio nella stessa situazione se utilizzo il mio amplificatore in quella che la regione per cui è previsto sia utilizzato sicuramente noterò queste differenze tra un brand e l'altro non le noterò se io quell'amplificatore l'ho comprato perché mi piaceva ma poi fondamentalmente non ho la possibilità di farlo lavorare nella sua regione di sweet spot per cui a volte anche confrontarsi per il cambio di valvole con qualcuno che il nostro stesso modello di amplificatore non è sempre la strada migliore si potrebbe rimanere delusi così come è molto facile imbattersi in persone che hanno avuto un'esperienza positivissima con una certa valvola di un certo brand e persone che invece hanno avuto un'esperienza disegno completamente opposto con la medesima valvola è importante non solo il circuito in cui viene collocato ma anche l'uso che si fa di quel circuito da questo punto di vista qui io credo che per quello che è la mia piccola esperienza per le persone con cui mi sono confrontato nel corso degli anni la tendenza di molti chitarristi è quella di avere degli amplificatori con una potenza più elevata di quelle che sono poi le reali necessità quindi si ritroveranno sicuramente a lavorare in un regime dove il grosso del peso è spostato sul pre e questa cosa è ancora più vera se l'amplificatore utilizzato con il master volume è ancora più vera se l'amplificatore viene in qualche modo regolato sul preamplificatore per ottenere una saturazione quindi si saturano le valvole preamplificatrici e si abbassa il master per avere un volume finale accettabile il primo consiglio quindi è quello di sottrarvi a questo a questo problema della scelta delle finali cominciando da una scelta attenta e intelligente del vostro amplificatore quindi scegliendo un vattaggio una potenza che sia adeguata alle vostre necessità solo in quel caso voi riuscirete ad apprezzare appieno le doti di quell'amplificatore e a capire qual è il contributo delle finali sul totale vi dico che nella generalità dei casi il contributo delle finali potrebbe risultare in influente o impercettibile mai inesistente questo mi guardo bene dal dirlo perché non sarebbe vero e che chiaramente le reputerete apprezzabili quanto più farete lavorare il finale per la potenza complessiva dell'amplificatore che avete acquistato sicuramente noterete il contributo delle finali su un amplificatore per dire da 50 watt se abitualmente insomma superate almeno i 30 di volume i 30 e 35 watt di potenza quando cominciate ad avvicinarvi al 60 70 per cento della potenza dell'amplificatore quindi capite anche da soli come diventa difficile in alcuni casi avvicinarsi al funzionamento ideale affinché le finali diano un contributo anche sulle valvole finali vale il discorso che vi facevo per le preamplificatrici ovvero le valvole preamplificatrici abbiamo visto che sono diverse tra di loro principalmente per questioni legate a scelte costruttive quindi a parità di parametri elettronici parità di valori di data sheet la geometria i materiali gli isolatori tutto quello che va a comporre il design complessivo della valvola concorre a dargli un suono piuttosto che un altro quindi a dare enfasi a delle frequenze piuttosto che altre ad una banda piuttosto che altre e le finali non fanno eccezione da questo punto di vista qui la differenza è appunto che per poter apprezzare queste differenze costruttive nelle finali bisogna far sì che le finali lavorino lavorino in un regime importante quindi non troppo al di sotto del loro potenziale all'interno di questo mondo allo stesso modo ci sono i fan del new old stock quindi delle vecchie valvole a tutti i costi e quelli che invece sono i fan di delle valvole moderne al tale scopo vale lo stesso discorso che ho fatto per le preamplificatrici con una differenza probabilmente sulle finali i costi diventano anche più importanti allo stesso modo delle preamplificatrici il new old stock nasconde molte insidie più passano gli anni più queste insidie diventano importanti in quanto parliamo di valvole probabilmente sono sono state messe fuori produzione già verso la fine degli anni 60 alcuni stabilimenti per cui quello che resta in circolazione è mano mano che si procede negli anni sempre la selezione della selezione della selezione della selezione ovvero le migliori sicuramente erano disponibili quando questo questo interesse verso il new old stock è iniziato mano mano che si va avanti con gli anni la disponibilità diminuisce si sceglie tra quello che c'è e quindi ci troviamo a volte ad acquistare valvole che 20 25 anni fa sarebbero state scartate a favore di altre più performanti non sempre quindi scegliere il new old stock è garanzia di avere una buona valvola soprattutto data la dilagante tendenza io vedo in rete molti annunci a vendere delle valvole con dei costi particolarmente attraenti valvole che hanno dei prezzi di poco superiori a delle valvole magari di produzione corrente quando in realtà quelle stesse valvole new old stock quando sono realmente di qualità e quando sono realmente magari una prima selezione valvole che magari sono state selezionate molti anni fa conservate gelosamente fino ad oggi hanno un valore che chiaramente compatibile con la loro rarità quindi hanno dei costi importanti sono delle valvole che sicuramente non non consiglierei all'utilizzatore medio non consiglierei all'utilizzatore generale ma che andrei invece probabilmente a consigliare a chi fa un'attività di registrazione in studio con amplificatori adeguati è quello l'utilizzo che vi consiglio nel mondo del nuovo ci sono delle valvole validissime che funzionano benissimo e che lo fanno ad un prezzo di produzione corrente senza la necessità insomma di doversi svenare a conclusione di tutto questo discorso vi dico subito che con le premesse che vi ho fatto precedentemente siete perfettamente in grado adesso di capire se vale o meno la pena investire su un certo tipo di valvole finali oppure no potreste in tal caso per esempio privilegiare una valvola più robusta con una certa longevità a quella che potenzialmente ha delle caratteristiche sonore migliori quando sapete che non siete in grado di arrivare a tirarle fuori quelle caratteristiche quindi di spingere l'amplificatore in una regione dove si possono apprezzare cosa molto importante delle finali e la taratura del bias spesso sento in maniera molto semplicistica in maniera molto dozzinale grossolana parlare della taratura del bias come di una procedura molto semplice che si possa fare a livello domestico senza particolari accorgimenti non è così ovvero le competenze per potervi fare una taratura in bias del bias in proprio non sono complicate da raggiungere anzi tutt'altro basta seguire alcune piccole norme di buonsenso conoscere quello che si sta facendo e farlo insomma in sicurezza probabilmente vi darà anche una grande soddisfazione essere in grado di mettere appunto il vostro amplificatore per chitarra da soli questo però va fatto con un minimo di attrezzatura sicuramente vi servirà un tester cacciavite isolato oltre a lavorare chiaramente in sicurezza un generatore di segnale e un oscilloscopio in quanto una cosa che dovrete scongiurare assolutamente è la distorsione di crossover distorsione di crossover che per l'appunto viene generata da una cattiva taratura del bias magari in alcuni casi un bias un po conservativo pensato per salvaguardare la vita delle valvole un po più a lungo vi potrebbe portare a tarare il bias in una regione dove la distorsione di crossover evidente per farvi capire di che parlo ci aiutiamo con l'immagine che vi allego qui di lato come vedete questa forma non è una sinusoide perfetta c'è un diciamo un piccolo gradino centrale in prossimità del del punto zero dello swing che corrisponde al momento in cui entrambi i rami di un push pull non sono in conduzione questo tipo di funzionamento che non è idoneo a restituirci una forma d'onda adeguata è dovuto al fatto che il nostro trasformatore di uscita quando va a ricombinare le onde che provengono dai due rami del push pull e a rimetterle correttamente nella giusta fase si ritrova con delle forme d'onda imprecise incomplete e questo genera questo tipo di distorsione che è una distorsione dove c'è una predominanza di terza armonica quindi in armonica dispari e dove è presente anche la quinta quindi ci sono due armoniche dispari in prevalenza la terza che è la più importante in termini di risultato sono che vi posso assicurare che sono molto 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 sgradevole in termini sonori allo stesso modo tralasciando poi la distorsione di crossover una taratura sbagliata del bias in senso opposto quindi tarando le valvole più calde potrebbe pregiudicare la vita dei vostri trasformatori e delle vostre valvole finali per cui affidarvi a un tecnico è forse la scelta migliore da questo punto di vista oppure se volete fare da voi è una vostra facoltà potete farlo tranquillamente ma fatelo acquisendo le giuste competenze non vi fidate di chi la fa troppo semplice di chi vi suggerisce con il tester di misurare una misura e tarare il bias in quella condizione lì perché vi sta dicendo parte del lavoro che c'è dietro di un lavoro che vi ripeto non è complicato ma presuppone la possibilità di poter andare a vedere alla fine della nostra taratura anche il risultato finale per cui o vi attrezzate e studiate un pochino e sarete perfettamente in grado di farlo da soli oppure affidatevi a un tecnico evitate lo smanettone il consiglio del forum il tutorial eccessivamente semplicistico in quanto alla fine dare un consiglio sbagliato non costa nulla alla fine il costo finale di una riparazione o di un amplificatore danneggiato ricade sul proprietario quindi chi vi consiglia male in qualche modo non ne fa le spese siete voi a rischiare il vostro amplificatore e non ne vale la pena tutto sommato vi ripeto se non volete un tecnico potete tranquillamente sopperire studiando un minimo di elettronica quel tanto che vi basta ad avere le competenze per gestire le vostre attrezzature detto questo spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio se vorrete contribuire nei commenti con dei suggerimenti se avete delle richieste se volete un approfondimento magari su una parte di questo video che vi sembra trattata in maniera non esaustiva scrivetelo tranquillamente tra i commenti riceverete risposta detto questo ci salutiamo mi auguro che lasciate un like al video se il video vi è piaciuto e che vi iscrivete al canale se non l'avete fatto e ci rivediamo al prossimo video